Siamo andati a cercare il colloquio, sono sceso, noi lo facciamo sempre come Movimento 5 Stelle, sono sceso, ho parlato con, chiamiamolo il capo corteo, chi aveva il megapono in quel momento e parlava, e ho detto scusami, dimmi tutti i problemi che avete, dimmi su cosa verte la vostra protesta, me le scrivo, entro dentro, cerco un attimino di risolvervi, vi diamo una mano noi.